Grande attesa per questa serata prevista per sabato 28 dicembre che si presenta come una grande festa popolare tra religione, tradizioni e arte. In linea con la necessità di provare a destagionalizzare i flussi turistici facendo leva su grande parrimonio materiale ed immateriale delle aree interne della regione Campania che insieme all'assessorato al turismo cofinanziano questo progetto, il cinquantesimo notturnale di Santa Lucia. I vicoli del centro storico saranno illuminati e preparati a festa con la partecipazione di tre gruppi musicali che si esibiranno tra canti su tamburo, tarantelle e suoni folk. Nella tradizione di questo borgo contadino ha anche la degustazione gratuita di antichi piatti con prodotti di eccellenza e da metro zero a fare da coordinatore l'artista san marzanese Biagio di Prisco. Si accende questo fuoco nei cortili dove si prepara sempre qualcosa da mangiare accompagnato. Una volta si facevano le famose patate da cenere con la misca di Santa Lucia che è una zuppa di cereali e legumi ed è proprio tipica di San Marzano sul Sarno, Covasco a Teipan e poi accompagnato da buon bicchiere di vino, canti e balli popolari perché questo appartiene al mondo contadino e i contadini solo questo avevano come musica e noi portiamo ancora avanti questa bella tradizione. La musica popolare che accompagnerà questo appuntamento sarà fatta da più di un gruppo insomma vogliamo parlarne un attimo? Certo, allora siamo innanzitutto tutti amici e ci sarà il gruppo i virtuosi della tarantella, il gruppo fuoco che vengono dall'alta Irpinia dove loro hanno questa bellissima tarantella legata poi al carnevale accompagnata sempre da canti popolari, poi ci sarà ballando per le strade che è un'associazione che recupera un po' pure loro recuperano queste belle tradizioni e poi ci sarò io con la voce della tradizione insieme a tutti questi amici tamorrari, fisarmonica, cantori della tradizione autentica, popolare, contadina.